Con noi al 59esimo congresso nazionale Federpol il dottor De Paoli, vice segretario generale garante privacy. Buongiorno dottor De Paoli. Lei ci ha illustrato nemmeno brevemente il regolamento 679 2016 che entrerà in vigore dal 2018. Può sintetizzare brevemente il suo intervento? Lei parlava nell'intervento di alcune parti, di alcune cose che moriranno e di altre che entreranno in vigore. Magari concentrando l'attenzione su questi due aspetti, ciò che se ne andrà e ciò che di nuovo verrà inserito. Sicuramente l'avvento del nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati rappresenta una svolta epocale per questo settore di attività e indubbiamente andrà un po' calibrato tutto il funzionamento degli apparati normativi che hanno riguardo alla privacy. Si tratta di un regolamento, come ho sottolineato nell'intervento di oggi, quindi di un testo immediatamente operativo. Però è un regolamento di una tale complessità e ampiezza che, a mio giudizio, avrà bisogno di qualche testo o perlomeno di accompagnamento e che faccia chiarezza rispetto a quelle disposizioni del precedente ordinamento privacy, il famoso codice 196 del 2003, che potranno continuare ad avere vigore perché riguardano alcuni ambiti, alcune materie che non sono toccate dal nuovo regolamento generale. In particolare, per citare due ambiti che poi sono molto significativi, l'ambito delle informazioni, del trattamento dati in ambito giornalistico. Potrà continuare ad avere vigenza con le disposizioni attuali o magari con delle disposizioni aggiornate, ma a cura del legislatore nazionale. L'ambito delle telecomunicazioni è un ambito che ha una sua disciplina europea, ma affidata a delle fonti diverse. Tra parentesi anche queste sono in corso di revisione, ma avranno un cammino loro. Quindi potrà essere utile, ma questa è una scelta che andrà fatta dal Parlamento, in prima battuta, dal Governo e dal Parlamento, attraverso magari la presentazione di una legge delega e poi il varo di alcuni, uno o più decreti legislativi, che diano organicità a queste disposizioni. In modo che il 25 maggio del 2018, a fianco del regolamento generale, quello di cui abbiamo parlato, quello che è, come ho detto e come ripeto, immediatamente in vigore nella sua integrità, potranno esserci delle fonti ulteriori che aiutino un po' tutti gli operatori, tutti i cittadini, ma direi soprattutto tutti gli operatori economici, a conoscere veramente qual è l'ambito normativo di riferimento per la loro specifica attività. Da questo punto di vista, ed è una cosa a cui tengo in modo particolare, potrà essere utile l'attività in questi due anni, in questo periodo di vacazio, prima dell'entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni, l'attività delle associazioni di categoria, che conoscendo approfonditamente le problematiche e le problematiche di protezione dati dei loro iscritti, dei loro associati, potranno suggerire temi, argomenti che potranno diventare linee guida, potranno diventare dei codici di condotta di cui pure si parla all'interno di questo regolamento, potranno offrire cosiddette best practice che seguite dai vari iscritti, dai vari operatori, in questo caso facciamo riferimento in particolare alla categoria degli investigatori privati, potranno consentire un utilizzo lecito, efficace dei dati personali senza incorrere in violazioni di legge. Siamo sulla via della semplificazione o della complicazione? No, sicuramente ci sono elementi di semplificazione, una serie di adempimenti vengono a cadere, però è chiaro che la complessità della materia dovrà, come dire, spingerci tutti ad una riflessione ulteriore. Più che una complicazione diciamo che ci sarà bisogno di confrontarsi, nell'ottica sempre protezione dei dati, protezione della riservatezza, con le nuove tecnologie che ormai sono talmente penetranti che pongono sicuramente problemi nuovi, problemi non immaginati nel momento in cui furono varate le regole precedenti. Basti pensare che ad esempio in questo nuovo regolamento si fa ovviamente cenno al ruolo dei social network, al problema della diffusione tendenzialmente incontrollata dei dati e quindi entrare dentro concetti che si sono affermati in questi anni come il diritto all'oblio, come il diritto alla portabilità dei dati e naturalmente concetti nuovi, idee nuove hanno poi bisogno di disposizioni di attuazione, quindi questo è quell'effetto che può portare a dire c'è una complicazione, in realtà c'è un'assunzione di responsabilità e di consapevolezza rispetto al nuovo che ci interessa. Grazie mille Dottor De Paoli. Grazie a voi.